Diffida i dirigenti generali dei vari dipartimenti della Regione per sveltire le procedure per i pagamenti delle fatture alle imprese che si sono aggiudicati a palti e servizi pubblici. Nel rivolgersi ai dirigenti, la Regione ha segnalato i gravi ritardi nei pagamenti delle fatture che di conseguenza influiscono a loro volta sui pagamenti ai dipendenti e ai fornitori delle stesse imprese, compromettendo in alcuni casi la stessa sopravvivenza delle attività. Secondo quanto comunicato dalla Regione, è necessario rimuovere ogni ostacolo per completare il riaccertamento dei residui attivi al 31 dicembre 2021, consentendo così lo sblocco definitivo della spesa e la predisposizione da parte della Ragioneria Generale nel più breve tempo possibile del Rendiconto Generale 2021, in modo da sveltire anche il lavoro del settore amministrativo regionale.